Siamo insieme a Davide Pasteris, uno dei due mister degli esordienti 2003, quelli che insomma si allenano e giocano a Cigliano e che hanno ripreso proprio oggi il campionato sulla delegazione di Ivrea, insomma un campionato impegnativo si diceva. Sì, ci hanno cambiato un po' il girone, si è alzato un po' il livello delle squadre secondo me, sono state giunte Ivrea e Strambino due bei gruppi, ma sono comunque dei bei gruppi Ivrea e sono sicuro che ci aiuteranno a crescere di più. Dicevo anche a quei ragazzi adesso è il momento di alzare un po' l'asticella, andare a fare cose diverse, bisogna aumentare il ritmo perché per l'anno prossimo sono tutte a 11 e diventa poi bello. Eh sì, e infatti è proprio di quello di cui si parlava e credo che tu abbia anche lavorato in questo senso durante la pausa tra la fase invernale e quella primaverile. Sì, noi ci siamo occupati prevalentemente come all'inizio anno sempre di tecnica, abbiamo sviluppato tutti i concetti che possono far parte di questa enorme cosa chiamata calcio e stiamo continuando a lavorare sempre su questi per migliorare, insomma senza sapere cosa fare è difficile poi andare in campo e visto che il livello si alza noi dobbiamo alzare automaticamente il nostro livello, si fa fatica, si va avanti per migliorare e crescere tutti insieme. Come può fare un mister a comunque tenere sul morale i propri giocatori che magari incontrano delle difficoltà oggettive perché appunto magari con squadre molto impegnative possono non uscire dal campo contenti, mettiamola così, come riesci comunque a motivarli? Allora, motivarli non c'è bisogno perché si motivano già da soli tra di loro, l'importante è creare un gruppo all'inizio, all'inizio bisogna creare il gruppo, cementarlo e far sì che loro lavorino e collaborino insieme e poi insomma non c'è bisogno di dirgli molto, loro non dimenticano quando ci sono delle sconfitte, quando ci sono delle difficoltà grosse, però pensano subito a come fare per migliorare, per non subire più qualcosa che magari è stato, che è successo, non c'è bisogno, bisogna solo essere bravi, secondo me, per come la vedo io, a far leva sui punti di forza dei ragazzi, non tanto insistere sulle cose che vengono più difficili perché quelle verranno poi naturalmente, ma continuare a dirgli sei bravo a fare questo, sei bravo a fare questo, pensa a quello di buono che hai fatto, il resto ci pensano da soli, se si crea il gruppo tra di loro si aiutano veramente tanto, ma tanto tanto. Sei soddisfatto tu di quello che trovi che quello che volevi cercare di trasmettere sia arrivato a questi ragazzi e quindi sei soddisfatto finora di quello che è il loro percorso? Io sono soddisfatto, diciamo che quello che volevo trasmettere sta arrivando, con calma ma arriva, perché comunque non è facile, lo dico sempre, passare da un calcio a sette a un calcio a nove, subito a undici, è un salto veramente grande, non è facile, sono sicuro che sta arrivando perché lo vedo in campo e lo vedo negli allenamenti, il gruppo è ampio e arriva, arriva, arriva.